Salve a tutti ragazzi, sono Zwillix e oggi sono qui con un nuovo video in cui vi mostrerò come esportare una macchina dal single player al multiplayer senza utilizzare computer. Per fare questo glitch vi servirà solamente un requisito, però solamente su Xbox 360. Su PlayStation 3 non servono requisiti per fare questo glitch. Praticamente dovrete avere vicino alla vostra console il router o il modem nel caso in cui vi collegate Wi-Fi perché in un certo punto del video dovrete spegnerlo. Oppure dovrete avere la vostra Xbox 360 collegata con il cavo Ethernet. Cominciamo con i glitch. Per prima cosa dovrete creare una sessione sull'invito e una volta fatto ciò dovrete recarvi allo Santos Customs vicino, non ci dovete entrare. E quindi una volta che siete attorno allo Santos Customs dovete andare nel menu di pausa e andare su Online, Opzioni, impostare luogo di rientro su Ultima Posizione. Dopodiché uscite da GTA Online e dovete scegliere il personaggio con cui volete duplicare l'auto. In questo caso ho scelto Franklin e quindi voglio duplicare la sua Bravado Baffalo. Quindi una volta fatto ciò come vedete in video dovrete posizionare il personaggio o meglio Franklin vicino all'auto e quindi ricreare di nuovo una sessione sull'inviti. Vi sponerete attorno allo Santos Customs e quando sarete sponati dovete prendere un veicolo qualsiasi che non sia personale. Quindi rubatelo per strada insomma ovviamente. Quindi entrate allo Santos Customs e quando accedete al menu dovete premere Start e andare su Game Store. Al terzo tocco quando fa PUM 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 voi dovete spegnere il modem, router se siete connessi via wireless, staccare l'Ethernet se ovviamente siete connessi via Ethernet. Oppure se siete su PlayStation 3 e non potete fare entrambi le cose dovete premere il tasto PS, andare su Gestione Account, premere Triangolo e fare Disconnetti. Purtroppo non potete disconnettervi dal menu su Xbox 360 altrimenti il glitch non funzionerà. Quando vi sarete disconnessi tornerete in single player e quindi fatto ciò dovete portare il veicolo che volete esportare nella modalità multiplayer allo Santos Customs. Non ci dovete entrare però dovete posizionarlo come vedete nel video. Quando l'avete posizionato uguale a come io l'ho posizionato nel video dovete riaccedere al vostro servizio PlayStation Network Xbox Live e quindi una volta fatto ciò dovete creare un'altra sessione solo a inviti. Quando l'avrete fatto il veicolo che volevate portare al single player a multiplayer si sponerà esattamente come l'avete messo nel single player. Allora accedete allo Santos Customs e se c'è l'assicurazione comprate l'assicurazione se no altrimenti utilizzatelo nella sessione finché non esploderà oppure non cambierete sessione questo veicolo ci sarà. Detto questo per favore lasciate un mi piace ci vogliono solamente due seconde cliccare quel bottone blu lasciate un mi piace alla pagina Facebook se vi va la troverete in descrizione commentate se avete domande, dubbi, richieste cercherò di rispondere più velocemente possibile e iscrivetevi per altri contenuti di GTA V. Da Zetawillix è tutto al pro... Da Zetawillix è tutto al pro...